.. morago-morago! porago-morago! Ma... Ma... Adoro le vacanze, non faccio un cazzo, riposo tutto il giorno. Nobita, cacolgne, nobita, cacolgne, nobita, cacolgne. Chi sei e perché mi dici queste cose? Caspiccherino. Delizioso. Ti sposerai tra 19 anni. Davvero? E con chi? Magari con John. Sposerai John, vero? Aspetta, ho qui l'album delle foto, guarda. Questo è il giorno del matrimonio. Zuka, 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 zuka. Ecco il registro realtà. E' una macchina che permette di manipolare la realtà come se fosse una videocassetta. Ti faccio vedere. Mangio indietro la scena e vedrai. A me sembra che non sia cambiato niente. Lo sapevo che era passato di qui. Ehi, la vita! Che c'è? Te l'avevo detto che è un cazzo. Lasciami in pace, non mi interessa. Che mostro. E di una malvagità inaudita. Per fortuna sono riuscita a seminarlo. Quando ci si mette quello scocciatore è troppo noioso e non la smetterebbe. Basta! Vieni qui! Adesso farai i conti con me e ti assicuro che pagherai a noi due. Uffa! Perché te la metti così? Io già me lo immagino, non farà che vantarsi. Che bella, mi piace molto la vostra mongolfiera. E comunque non illuderti tanto, non ti sposerò mai, mi hai sentito? Davvero? Grazie. Se ti va possiamo fare un giretto insieme. Non sono convinto di farti guidare la mia mongolfiera. Non preoccuparti, torniamo subito. Chi sa dove saranno andati a finire Nobita e Shizuka? Ah, eccoli, sono loro, stanno tornando a casa. Resta dove sei! Spettetela voi due. Portatemi subito dei vestiti, per favore. Con questa specie di schermo puoi vedere dappertutto. Spettetela voi due. 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 Oggi sono stato anche surgelato!